buongiorno agli amici oggi è una bella giornata è il 9 ottobre e io sono ovviamente in campagna oggi vi faccio vedere come coltivo la lattuga e la scalore in vaso la coltivo in vaso perché poi vi faccio vedere la differenza da ottimi risultati questo è terriccio universale mischiato con del compost casalingo e quella che sto piantando è l'indivia comunemente chiamata scalora riempio il vaso a metà metto la piantina e la completo con il riempimento del vaso tutto lateralmente avendo cura di lasciare circa due centimetri dal bordo per l'innaffiamento e questo è il risultato della piantina nel vaso